Buongiorno a tutti, allora, 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 torniamo a parlare di quello della notizia, ahimè, che sta creando dibattiti tra bonisti che stranamente non ci sono e giustizionalisti che tutti giustizionalisti adesso, no? Perché è sempre così, no? Succede una cosa che praticamente anima l'opinione pubblica, scandalizza l'opinione pubblica, è orrorifica per l'opinione pubblica e allora tutti che diventano giustizionalisti. Poi la stessa cosa magari la fa una persona che piace particolarmente a una determinata fascia politica e si cerca di smiduire la cosa, giustificare la cosa, eccetera, eccetera. Allora, 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 abbiamo questo ragazzo, ognuno l'ha chiamato in maniera diversa, ma è un ragazzo, perché alla fine ha poco più di vent'anni anche lui, che l'ha fatta grossa, l'ha fatta enorme, l'ha fatta gigantesca, l'ha fatta quello che volete. Qualcuno l'ha definito in maniera anche pesante, non voglio ripetere le parole che hanno detto, non mi interessa. Io resto dell'idea che la giustizia deve fare il soccorso e deve dare la giusta punizione, la giusta punizione a questa persona. L'avvocato deve fare il suo dovere, lo sta già facendo molto bene, purtroppo per molti, perché sta cercando di far apparire questo ragazzo come il classico bravo ragazzo che ha perso la testa, anche se quello che sta venendo fuori è tutt'altro. Si è inventato, no? Giustamente no, ma il giovane amava molto la sua ragazza. Pensate che gli preparava la colazione coi biscottini. E poi dall'altra parte si va a vedere che il bravo ragazzo si era già preso un kit di sopravvivenza e si era uscito all'appuntamento per chiarificare quello che era con la sua ex armato, col coltello. Pare che prima di tutto questo, quando lei ha deciso di lasciarlo, lui gli ha fatto le scenate di gelosia e tutto quanto. Quindi la situazione, capite benissimo, non vorrei essere nei panni dei giudici, non vorrei essere nei panni dell'avvocato che sicuramente subirà tante pressioni, si beccherà tanti insulti, ma d'altro nell'avvocato difensore deve fare quello. Se io pago una persona per una cosa, quella cosa la deve fare bene, deve tenere dei risultati. Se deve fare la stessa cosa che farei io senza di lui, ne faccio meno. Quindi è normale che un avvocato difensore deve fare in modo di far assolvere il suo assistito, anche se non è colpevole, è stracolpevole. La bravura di un avvocato è quella, ragazzi. Perché se un avvocato deve far dare la giusta punizione al suo assistito, il suo assistito gli dice, senti, c'ho il ciccio, a sto punto vado senza avvocato, mi affido alla clemenza della corte, magari mi danno beno anni di quelli che mi faresti dare te. Quindi logicamente l'avvocato deve far apparire il suo assistito come un piccolo santarellino che è diventato improvvisamente un diavoletto perché ha perso per un attimo la testa, per poi magari puntare al momentaneo incapacità di intendere di volere perché ha ciecato dalla brama di perdere la cosa proieziosa della sua vita e quindi poi si è reso conto di aver fatto, però uno che si rende conto di aver fatto la cazzata prende, si costituisce subito e subisce quello che deve subire sfruttando magari anche il fatto che è una dimostrazione ulteriore che tu hai perso la testa, cosa che purtroppo spesso capita anche quello persona che tranquillamente prende il telefono, chiama il carabiliere, ha ucciso la moglie, ha ucciso la mia fidanzata quindi ragazzi è inutile che, oddio cos'è, come si permette l'avvocato e l'avvocato deve fare il suo dovere perché l'avvocato bravo è quello che fa assolvere la moglie che ha ucciso il marito col tritacarne come l'avvocato Colombo nel film di Jerry Cala i fichissimi l'avvocato Colombo, l'avvocato Colombo e fa assolvere come ridere il buon Jerry Cala dall'accusa della rapida poi l'altra cosa che a me, e lo continuerò a dire senza voler giustificare nessuno ragazzi io ripeto ha fatto quello che ha fatto e la giustizia deve dargli la giusta punizione però continuerò a dirvelo io in tutti i casi di femminicidio non c'è mai veramente una volta uno che non ha dei problemi o era violento o era fedifrago o era uno che è maniaco del controllo come in questo caso pare essere questo ragazzo qua non c'era mai stato mai uno che era primo della classe bravissimo stava studiando alla grandissima si è sempre comportato bene con la sua ragazza mai un litigio mai una cosa mai qua mai giù le faceva faceva il principe azzurro le regalava il mondo viveva per lei eccetera eccetera lei l'ha mollato e a lui sono girate giustamente le balle poi qualcuno potrà dire Gigi cosa dice eccetera eccetera e capite che magari sai tu sei lì che stai insieme per x anni con la tua fidanzata la tratti da principessa non le fai mancare nulla né sessualmente né per altri motivi quindi la fai stare bene come nessun'altra donna potrebbe questa ti molla e magari potresti non capita perché di solito le persone così sapete cosa gli dicono ok ti auguro di essere fortunata ma credo che una persona come beh difficilmente la trovi buona fortuna arrivederci grazie perché i ragazzi i bravi ragazzi si comportano così invece solitamente sono sempre tu 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 c'è sempre l'elenco no bell'elenco l'altra cosa dell'ultimo femminicidio questo era un fedifrago aveva messo incinta un'altra aveva fatto i disastri che aveva fatto e quant'altro l'altro quello eclatante l'omicidio eclatante che ha sterminato tutta la famiglia si era invaghito della collega di lavoro più giovane eccetera eccetera quindi quello che me la fa arrabbiare è che c'è sempre qualcosa che non va nell'omicida quindi io mi domando ma una ragazza lo faccio io quando mi piace una ragazza teoricamente dovrebbe farla anche una ragazza quando gli piace un ragazzo che magari lo conosce da poco lo conosce gli piace esteriormente perché tu non puoi conoscere una persona interiormente la prima cosa che guardi minchia che figa o minchia che figo quindi cosa fai? cerchi di conoscerla meglio per conoscerla meglio se magari prima cosa che fai chiedi a qualcuna solitamente meglio una ragazza che non un ragazzo perché sennò c'è sempre no no Gigi perché sapete quante volte Gigi ma no ma quella lì ma figurati se ci sta con te ma quella lì se la tira no Gigi non è la donna per te poi ci si mettono insieme loro sapete quante volte da bimbo mi capitavano queste cose qua io sono un buono dico vabbè donne ce ne sono tante una volta mi fido d'ora in poi tu sei cancellato quindi solitamente chiedo a delle ragazze l'ultima a cui ho chiesto un parere su una ragazza che mi piaceva ho dato un parere molto positivo sulla medesima poi purtroppo io non sono come temevo perché lei è molto bella il tipo per lei e quindi sorvogliamo anche su quello che è successo ma non tra me è lei su un'altra questione che non mi va di parlarne comunque ti informi se ti dicono guarda che guarda che guarda che non è il caso questo perché pare che loro fossero insieme dal liceo quindi è una storia adolescenziale poi logicamente si cresce e purtroppo e dobbiamo ammetterlo noi maschietti cresciamo meno delle donne noi restiamo diversamente giovani il nostro Peter Pan resta forever and ever poi qualcuno lo è troppo qualcuno lo è troppo poco mentre le donne sono più inquadrate quindi per cui magari lui si è reso conto che lei stava evolvendo di più perché pare che ci sia anche questo perché qualcuno ha parlato di gelosia perché lei stava per laurearsi prima di lui eccetera 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 cioè c'erano delle cose che lei è cresciuta di più quindi logicamente ha cercato quindi non gli posso neanche dare la colpa a lei di dirgli beh ma lo sapevi che questo era così no perché quando ti metti assieme quando sei giovane sei alle scuole sei al liceo non puoi sapere uno come evolve però il fatto che le amiche le abbiano detto guarda che è meglio che forse sarebbe stato meglio se qualcuno fosse rimasto lei andava alla cena lui parcheggiava fuori l'aspettava fuori vedeva cosa succedeva se vedeva che uscivano assieme li seguiva in questo modo se succedeva qualcosa poteva intervenire invece lei è andata da sola ed è successo quello che è successo adesso ripeto io mi auguro che non succeda come al solito scusate succeda succeda che in primo grado gli danno gli danno l'ergastolo 30 anni o quello che è poi vanno in appello e gli danno 10 o 12 anni come sempre come accade sempre perché ripeto c'è stato un episodio che mi ha lasciato basito un po' di anni fa di un ragazzino di 18 anni che ha acciso la fidanzatina di 16 o giù di lì perché non voleva fare l'amore con lui non si concedeva completamente a lui e lui l'ha affogata l'ha uccisa quello che è e ha preso 12 anni quindi la situazione uno la può paragonare e voi sapete benissimo e lo dico spesso me lo spiegava il mio professore quando facevo giurisprudenza perché un po' di lezioni le ho seguite anche se era un lezioni di diritto privato e non di diritto penale ma vale per tutti e due i campi sentenza fa giurisprudenza quindi andare a prendere le sentenze del passato che possono essere favorevoli per l'imputato può essere molto utile per fare in modo che l'imputato abbia una pena inferiore a quella che dovrebbe avere io francamente sentirei diamogli l'ergastolo diamogli quello diamogli quell'altro resto dell'idea che deve avere la pena giusta per aver ucciso una persona punto tu hai ucciso una persona una non hai fatto una strage non hai ucciso cento persone duemila persone un milione di persone è uccisa una cosa prevede l'omicidio di una persona vai a vedere le casistiche 12 anni 15 anni 20 anni 25 anni eccetera è una perché se ne uccidi due ne uccidi tre ne uccidi quattro cosa fai? perché se ne hai l'ergastolo per aver ucciso una persona una che ne uccide due deve avere la pena di morte una che ne uccide tre deve essere appeso e lasciato lì a morire lentamente uno che fa una strage lo deve dare in pasto alle formiche di fuoco ragazzi ognuno deve avere la giusta punizione io mi auguro che questo ragazzo abbia la giusta punizione né più né meno ma non che venga assolto o peggio ancora gli diano l'infermità mentale perché è tutto fuorché l'infermità mentale perché da quello che si legge che si vince eccetera eccetera pare che siamo nella serie o torna con me o torna con me perché se si era già prima io non vado a una cena con una ragazza armato perché se non me la dà la costringo a darmela me ne guardo bene al massimo mi porto una rosa non vado armato mi dà due di picche amen non gli vado a rinfacciare il fatto ma ti ho pagato l'aceno 200 euro 200 carte di cena e non me la dà perché io sentivo anche gente così io quando avevo il negozio vedivano i ragazzini ragazzi sui 18 anni 19 anni 17 anni dipendeva diciamo 18 anni maggiorenni con la macchina li ho patentati venivano a prendere il pelucione da regalare alla ragazza perché ci uscivano a cena per la prima volta e se ne uscivano alla grandissima con la frase classica no quella che senti dire anche dal Pucci quando racconta l'uscita con la fidanzatina no è bene una seghetta perché tu devi uscire dalla cena perché hai il piacere di uscire a cena con una ragazza se poi lei decide di dartela o no non deve essere per la cena deve essere perché pensa che con te può costruire qualcosa perché con te può stare bene perché gli fa piacere di fare quella cosa lì a lei non perché si deve sdebitare perché gli hai pagato una cazzo di cena scusate il francesismo perché ragazzi miei se volete portare a cena una per portarvela a letto fate prima a utilizzare quei soldi lì per scegliervi su internet una bella escort spendete più o meno la stessa cifra o qualcosa di più andate sul sicuro vi trovate anche una gran figa scusate il francesismo una volta che avete finito arrivederci grazie così non avete complicazioni e state bene ma se voi invitate a cena una ragazza solo ed esclusivamente col pensiero gli pago la cena così me la dà non avete capito un cazzo né dell'amore né della vita questo è il mio pensiero sarò antico me lo dicono a tutti Gigi sei antico come quando dicevo mi piacerebbe invitare una ragazza a mangiare al Monti mi dicono sei pazzo invitare una ragazza al Monti e con una richiesta di fidanzamento ufficiale con scopo matrimonio ma stiamo scherzando guardate che è il Monti non è cracco che tra l'altro se vuoi mangiare decentemente da cracco gli devi lasciare giù lo stipendio di un mese perché con quelle quattro portatile del cazzo che ti dà per cento passa euro fai l'antipasto globalmente almeno io quindi io vi consiglierei ragazzi di cominciare ad avere più amor proprio e di avere meno amor proprio meno amor proprio e più amore se vogliamo evitare queste cose qua perché io sento anche tanta gente io non ci riesco ragazzi io non ci riesco beati voi ma io sento tanta gente dire ah sono innamorato pazzo di quella ragazza lì farei di tutto per quella ragazza lì adesso mi dichiaro e ci metteremo insieme poi prende il 2 di picche che troia che puttana che vacca che stronza che qua che su che giù non l'amo più che cazzo fai io non ci riesco io se voglio bene una persona se mi imbaghisco di una persona se tutto quello che volete quel sentimento che provo per lei anche se non me la dà resta poi mi rendo conto che non sarà mai lei la mia ragazza e mi guardo in giro per trovarne un'altra però la tratterò sempre come l'ho sempre trattata prima al compleanno se ci frequentiamo ancora comunque nel giro della cerchia delle mie amicizie il regalino glielo faccio lo stesso regalino insomma regalo eccetera eccetera perché per me non cambia niente se ti ho voluto bene ti ho voluto bene non è che spengo l'interruttore non sarai mai la mia ragazza ne prendo atto ma non è che dico che stronza che puttana che qua che su che giù non è mai successo da quando ho iniziato a interessarmi alle pulzelle intorno ai 16 anni 17 perché prima io ho sempre pensato più a fare sport eccetera e diciamo che spesso e volentieri mettevo prima allo sport alle questioni della zompo quindi c'era l'inter c'era il calcio c'era il tennis c'erano i miei hobby poi è logico le donne le guardavo come tutti le ragazze le guardavo come tutti poi la vita è andata come è andata però purtroppo noi mettiamo sempre prima l'amor proprio perché dicono e no bisogna essere egoisti bisogna pensare solo a se stessi bisogna e io non ci riesco ragazzi e che cavolo vi devo dire sarò fatto male io non riesco a mettere sempre me 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 io ho proprio il piacere ogni tanto e lo ricorderò sempre vi racconto quest'ultimo episodio poi vi saluto e vi consiglio anche un film e di leggere magari Bollier che non sarebbe male era l'estate del 96 o del 97 probabilmente ve l'ho già raccontata ma fa niente è ripetita Juventus stress anche perché ci sono nuovi iscritti che magari non lo sanno e c'era questa ragazza che lavorava con noi in discoteca faceva la guardarobiera che figurati che bisogna una discoteca in estate di avere la guardarobiera che tanto le ragazze arrivavano già sì c'era magari qualche borsa da lasciare giù ma nulla di che quindi diciamo che dava una mano in generale a me piaceva faceva gli anni intorno a metà agosto più o meno giorno più giorno meno io per il suo compleanno le ho fatto trovare sette rose rosse in camerino il camerino lì nella e una maglietta carina la magliettina sapete che ha visto le rose si è vista una ragazza che rimbalzava per la discoteca le rose le rose le rose mi hanno regalato le rose come sono contenta mi hanno regalato le rose cioè felice la maglietta che gli ho regalato l'ha messa su da quel momento lì fino alla fine dell'estate tutti i giorni aveva su quella maglietta perché mi diceva che la usava al pomeriggio la lavava subito la metteva ad asciugare in modo che il giorno dopo poteva usarla ancora alla sera naturalmente si vestiva più in maniera più consona al lavoro che facevamo in discoteca aveva su sempre la mia maglietta e non è che non avesse magliette ne aveva ma non me l'ha mai data però io ho questa soddisfazione che uno potrebbe dire Gigi chi se ne frega però non te la sei ciulata vedete voi ragionate così continuate a ragionare così continueremo ad avere femminicidi eccetera eccetera finché uno non non riesce a mettere la felicità di chi ama al primo posto come dette la propria e se ne fotte altamente di quello che pensa la controparte perché io devo essere felice e tu devi ci devi stare avremo sempre femminicidi se tu abbia una persona cosa vuoi la tua felicità o la sua fatevi questa domanda eleggetevi moglier invece no eh no eh devo essere felice io poi fa niente se gli altri sono tristi che cazzo me ne frega io sono felice gli altri possono andare a puru 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 no ma questo si chiama amor proprio poi c'è l'amore finché vince l'amor proprio poi abbiamo l'estremizzazione dell'amor proprio in situazioni come queste poi qualcuno mi dirà che sono superficiale che sono qua che sono giù che sono giù io vi ho detto la mia il mio parere naturalmente ci sono psicologi psichiatri e quant'altro che ne sanno più di noi più di me eccetera io ho dato solo un esame sul comportamento umano Smelser nel libro Smelser quindi ne so poco niente osservo osservo vi do la mia idea che è antica che è boddista anch'io in quei certi casi sono boddista sono buono non boddista è diverso i boddisti sono quelli che giustificano sempre no poverino poverino un cazzo ha fatto quella cosa lì ma ha punito punto giusto né più né meno perché con il boddismo poi abbiamo i bambini che mandano a fare in culo i professori i genitori che vanno a mandare a fare in culo il maestro perché si è permesso di mandare a fare in culo il figlio dopo che l'aveva mandato a fare in culo cosa che agli tempi non succedeva stavi muto se il maestro ti tirava un coppino non succedeva il maestro Pellati non si è mai permesso di metterci le mani addosso ma ci faceva sempre delle ottime ramazzine quando ce le meritavamo e noi non andavamo a casa a dire il maestro Pellati ci ha fatto la ramazzina perché sennò prendevamo gli schiaffazzi che non ci aveva dato il maestro giustamente perché ai tempi degli anni 70 fortunatamente i professori non ti mettevano le mani addosso precedentemente nelle scuole negli anni 50 e 60 c'erano le bacchettate per non dire ancora prima dopo ci facevano solo le ramazzine e quest'altro e noi alle elementari vedevamo al maestro degli elementari perché ne avevamo uno solo come un secondo padre o se avevamo una maestra come una seconda mamma adesso le vedono come delle pezze da piedi da trattare già alle elementari purtroppo non parliamo delle medie e delle superiori in cui ne succedono di ogni e i genitori anziché prendere il figlio per le orecchie come ti sei permesso di offendere il professore vanno dal professore magari gli danno anche una testata gli rompono il setto nasale perché ha osato dare una nota al figlio perché ha osato mettere un 4 al compito in classe del figlio che meritava 4 eccetera 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 e poi dopo succedono queste cose qui perché magari non si riesce a far accettare ai propri figli che qualcuno ti dica di no cosa ha fatto quella ti ha detto di no ha osato darti il 2 di pic è normale è normalissimo uno ha tutto il diritto di dire sì o no io ho preso una marea di 2 di pic ma non ho mai odiato nessuna di quelle che mi ha dato pic addirittura erano quasi di più i miei amici che si incazzavano perché una mi dava il 2 di pic che non io che mi dicevano Gigi non è possibile come fa quella stronza ad averti dato 2 di pic che a te e me l'ha dato che problema c'è perché gli aveva della stronza è una sua scelta l'accetto e Adel io gliel'ho chiesto non vuole ne prendo atto poi magari a posteriori la stessa ragazza mi viene a dire Gigi quanto mai ti ho detto di no è ormai è tardi sei sposata con figli quindi devi pensarci prima sei felice sì basta ragazzoli mi sono dilungato troppo spero di non aver offeso nessuno penso di non aver detto nulla di sconveniente ah giusto vi ho detto il film è un film che consiglio sempre alle coppie perché vi fa capire proprio l'amore e l'amor proprio la differenza e che purtroppo vince sempre l'amore vince sempre l'amor proprio sull'amore magari vincesse l'amore sull'amor proprio non succederebbero queste cose che è il tempo delle mele 3 o l'étudiant in francese l'hanno chiamato il tempo delle mele 3 anche se non c'entra nulla con i primi due tempo delle mele per cercare di fare in modo che il pubblico pensando che fosse la continuazione del tempo delle mele l'andasse a vedere ma non c'entra assolutamente niente vi dico solo che la storia tra una ragazza che studia la Sorbona e fa diciamo così l'insegnante precaria in attesa di prendere una laurea e potersi magari candidare per una cattedra ufficiale quindi fa delle sostituzioni ecco di insegnanti che magari sono in malattia o che cosa e quindi e intanto studia la Sorbona e un musicista musicista di di gruppi rock o che cosa un musicista che si occupa di jingle di creare colonne sonore eccetera eccetera e che fa ogni tanto delle tornee col gruppo ma è un musicista normalissimo poco più di uno di piano bara ecco per intenderci non è un musicista di una band che fa chissà che cosa e si vede la storia tra questi due come si evolve eccetera eccetera con in mezzo diciamo così quello che scrisse Molière sia del misantropo che dell'altro che dei due libri che ha scritto aspettate che valore il misantropo aspettate che vado su Molière e vediamo subito la sua cosa perché mi dimentico sempre la sua bibliografia perché erano due libri un era appunto quello che vi ho detto uno era il bisantropo e l'altro è non lo trovo non lo trovo non lo trovo non lo trovo niente non riesco a trovare il secondo libro che non è la varo non era la varo non era non era il malattia del magidario comunque il bisantropo sicuramente e poi c'era un altro dovrei andare nel tempo delle mene tre ma non c'ho voglia non voglio farvi perdere ulteriore tempo visto che il video è già abbastanza lungo attendo di sapere cosa ne pensate io sto leggendo tante cose su facebook di persone indignate persone arrabbiate persone che magari hanno anche esagerato e dopo aver scritto quello che hanno scritto hanno preferito toglierlo per evitare problematiche di natura facebookiana quindi io ve l'ho detto resto attendo che la giustizia faccia il suo corso non mi va di essere nebonista né giustizia perché sulla sulla cosa del momento uno magari poi esagera adesso dell'idea che lui debba avere la giusta punizione per quello che ha fatto punto né più né meno per di più stavolta non c'è la giustificazione che io spesso non è una giustificazione ragazzi io non voglio giustificare questi gesti qua perché sono gesti che mi fanno girare i testi io questi gesti li accetto se uno ammazza un rapinatore che entra nel suo negozio sono per la legittima difesa sempre e parto sono anche più cattivo se vogliamo ma non vi dico non vi va di andare anche perché io di rapine ne ho subite quando avevo un negozio mia mamma ne ha subite tre io ne ho subite tre l'ultima con la pistola puntata in faccia cosa devi fare nulla stai a difenderti tanto con la legge italiana cosa succede se ti va bene lo fai fuori è sempre cesso di legittima difesa perché chissà come mai era una pistola ha giocatolo anche se non lo era se ti fa fuori lui manca poco che gli danno la legittima difesa perché quanto mai la persona rapinata ha osato difendersi e quindi chi te lo fa fare e tu sei sotto terra per cosa per due trecento euro anche perché avevamo una cartoneria non è che avevamo chissà che cosa quindi buon senso sempre la vita umana vale molto di più della vita materiale ti assicuri e risolvi però ripeto se uno è esasperato eccetera è lì ma su ste cose qua mi dispiace sono non vedo giustificazioni quindi quando io dico spesso vi dico però lei lo sapeva che tipo di persona andava si metteva assieme ve lo dico spesso e quindi gli do tra virgolette una piccola colpa di andare però che colpa uno può anche essere così ma qua siamo al andiamo oltre ragazzoli io vi saluto vi ringrazio perché se no mi dilungo ancora troppo perché sapete mi aggancio 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 ai vari e mi vengono in mente altre cose e non finiamo più mi auguro che la giustizia faccia il giusto corso dia la giusta punizione non dia né più né meno di quello che questa persona merita senza farsi condizionare dall'esterno e fortunatamente non c'è una giuria popolare che deve decidere ma ci sarà un giudice un avvocato difensore e naturalmente l'avvocato della controparte che deve far valere i diritti di una persona che purtroppo non c'è più ma che merita giustizia giustizia non vendetta giustizia detto questo ci vediamo alla prossima ciao ciao